Con riferimento all'ultima questione Trenitalia che devo dire mi ha un po' colpito, nel senso che mi è molto dispiaciuto che Trenitalia abbia omesso quel galateo istituzionale che aveva sempre rispettato in precedenza anche con la regione Puglia perché non ci ha consentito di discutere e soprattutto di partecipare alla sua decisione di far partire il treno Frecciarossa da Bari. Spero che recuperino in questi giorni, in queste settimane anche perché è chiaro che noi consideriamo Trenitalia ed RFI un partner insostituibile e preziosissimo del futuro della Puglia, quindi è bene che loro si ricordino delle regole che hanno sempre rispettato in passato.